ancora una buona giornata a tutti quanti voi Mimmo Moramarco l'oroscopo del giorno per questo giovedì 12 gennaio 2023 all'interno del buongiorno con sorriso occupiamoci dei nostri 12 segni zodiacali la previsione ariete una giornata di metà settimana caratterizzata dal favore di venere quindi in amore a gonfie vele toro bene per il lavoro dove avrete una buona posizione di mercurio da poter sfruttare al meglio gemelli energie altissime anche per questo giovedì marte e la sua congiunzione non vi abbandoneranno cancro l'opposizione di mercurio non vi lascerà troppa tregua per quanto riguarda il lavoro fidatevi più di giove leone energie perfette per dare il meglio con impegni professionali buonissime le posizioni di marte e giove vergine marte sfavorevole vi renderà tutto complicato potreste essere particolarmente stanche oggi mi lancia una bella posizione di venere sarà della vostra e questo gioverà in amore un giovedì molto buono soprattutto per le coppie scorpione niente di che in amore per questa nuova giornata per il lavoro mercurio vi regalerà delle situazioni fortunate sagittario giove ancora della vostra parte anche se le energie purtroppo non saranno al top capricorno mercurio sarà in congiunzione vi aiuterà a impegnare sul posto di lavoro i risultati non arriveranno comunque subito acquario non vi mancherà la voglia di darci dentro in un progetto professionale le energie vi aiuteranno ancora di più pesci per il lavoro mercurio non solo vi aiuterà con i colleghi capi e nuovi incontri professionali vi sosterrà anche per quanto riguarda compiti e progetti ancora tanti auguri l'oroscopo ritorna domani come sempre con mimmo moramarco